Nuovo scontro tra Bruxelles e i colossi del web. L'antitrust europeo scende in campo contro Google. La Commissione ha annunciato di aver inviato una nuova comunicazione di addebiti al gigante internet statunitense. Oggi la Commissione ha inviato una dichiarazione d'opposizione a Google. Siamo preoccupati che possa aver distorto illegalmente la concorrenza nel settore della pubblicità online, noto anche come AdTech, ha detto Margaret Vestager, commissaria europea per la concorrenza. Secondo l'accusa, Google favorerebbe i propri sistemi e servizi pubblicitari online a danno di fornitori di servizi analoghi, degli editori che vendono spazi pubblicitari e degli stessi inserzionisti. Secondo la Commissione, Google dispone di una posizione dominante anche a livello europeo su una serie di segmenti chiave della pubblicità online, in particolare con il suo servizio destinato a editori e server di FP e con i sistemi Google Ads e DV360. Le obiezioni mosse dall'antitrust comunitario riguardano un periodo che inizia dal 2014.